Buongiorno, io sono Leone Crescenzi e sono CEO e co-founder di Palco. Palco crea live streaming mobile show per le persone che non guardano più le televisioni. Lo facciamo con una visione piuttosto ambiziosa. Sostanzialmente creiamo mobile show interattivi globali che offrono un'esperienza di intrattenimento che sia davvero all'avanguardia. C'è una grande opportunità fuori sul mercato, infatti il 63% delle persone nella demografica 1834 non guarda contenuti in live streaming regolarmente e negli ultimi 5 anni un 40% di quella stessa demografica ha smesso di guardare la televisione. Il 75% invece del traffico internet del 2017 era composto esclusivamente da streaming video. Dunque, cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di cambiare il formato, rimpiazzare il medium e migliorare il contenuto. Questo perché prendiamo il contenuto televisivo e lo portiamo fuori dalla televisione e sui cellulari. Portandolo sui cellulari riusciamo a abilitare nuove forme di intrattenimento che sono disponibili grazie alle tecnologie che sono appunto disponibili sui cellulari di ciascuno di noi. Inoltre, siccome facciamo show mobile dal vivo, live, sono interattivi. Parlando di interazione intendiamo un'interazione vera, non quella fatta di commenti e reazioni, ma per esempio nel caso di un quiz un giocatore può vincere un premio in denaro o nel caso di un dating show può interagire con il cast e modificare la storia che sta guardando davanti a lui. Guardare sarà gratuito, mentre interagire è premium. Inoltre, stiamo lavorando per creare i primi show dal vivo che siano computer generated e human curated e quindi ottenere un alto livello di scalabilità del nostro prodotto. Il nostro primo prodotto si chiama Debuty Show, è il live trivia game show che vuole che tu vinca. È un quiz show che avviene appunto live sui vostri cellulari, che però è realizzato in manutare a dare un'esperienza di gioco per l'utente più corretta e quindi più priva di frustrazione. Infatti abbiamo ridotto i livelli di gioco rispetto a tutti gli altri trivia game, ce ne sono diversi della concorrenza, abbiamo aumentato il numero di secondi per rispondere e la cosa che ci interessa di più è il fatto che più sei bravo più soldi vinci, quindi i nostri premi sono effettivamente piuttosto ricchi, sono diverse migliaia di euro per giornata. Inoltre abbiamo costruito un motore tecnologico, PAST, che ci permette di affermare una cosa che non può affermare nessun altro, ossia che un giocatore su otto vincerà un premio in denaro. Questo è quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno, noi siamo costituiti durante il Founder Institute 2018 a Roma, abbiamo rilasciato un MVP nell'ultimo trimestre del 2018, abbiamo avuto ottimi risultati in termini di early adopter e grazie a loro, grazie a questi early adopter negli Stati Uniti e in UK abbiamo lavorato sulle prossime iterazioni. Siamo stati selezionati dal Founder Institute, dagli Headquarters per essere parte del Funding Lab, il programma avanzato dedicato al fundraising e a marzo abbiamo aperto il nostro primo round di Preseed. Il nostro business model, l'ho accennato prima, guardare è free e interagire è premium, è un business model simile, del tutto simile a quello dei casual game, le nostre proiezioni di revenue sono basate sui costi di acquisizione e sui fatturati medi di qualunque casual game sul mercato. Infatti, nello schema della nostra competizione, il ragionamento su cui partiamo è che l'intrattenimento compete con qualunque cosa, una cena con gli amici o un concerto, per cui il ragionamento importante è che Palco, si pone per essere l'unico forma di intrattenimento che sia il più interattivo possibile e il più casual possibile. Amiamo definirci, e con una certa sfacciataggine l'ho fatto anche l'altro giorno davanti a Riccardo, il candy crush dell'intrattenimento video. Il nostro piano di Coto Market prevede il coinvolgimento delle migliori star di Hollywood, abbiamo già lettere di intenti dalle principali agenzie di Hollywood per avere i loro clienti nei nostri show come ospiti, il re-podcast dei nostri show su Facebook Live e le campagne di Le Ferral. Vado rapido sul team perché io sono un imprenditore dell'ambito intrattenimento da circa 20 anni e mi interessa dirvi che riserviamo, visto che siamo con il round aperto, speciali condizioni per questo pubblico, se qualcuno di voi fosse interessato, noi in questo momento abbiamo raccolto già il 70%, abbiamo un po' di spazio, i soldi che abbiamo raccolto finora vengono esclusivamente dall'industria dell'intrattenimento, abbiamo gli executive di Fox e di Sky che stanno investendo su di noi e sono molto interessati, per cui nel caso vi fosse interessati, noi siamo qui, questi sono i nostri recapiti e con piacere.